Fretti il video sono Chiara Nicoletti dall'ottantunesima mostra d'arte cinematografica di Venezia sono contenta di dare il bentornato e il benvenuto a Francesca Comencini che presenta il tempo che ci vuole fuori concorso, benvenuta grazie, ciao allora i tuoi ricordi vividi e intatti sono potuti diventare film perché la giusta distanza la creava il cinema che condividevate con tuo padre dunque ti chiedo quando hai capito che poteva avvenire questo e perché ora? ma in verità non c'è stato un momento preciso perché forse questo film anche inconsapevolmente desideravo di farlo da tutta la vita forse c'è stato qualcosa di scatenante al momento in cui c'è stata la pandemia eravamo tutti chiusi in casa da soli, io ero chiusa in casa da sola i cinema erano chiusi, c'era questa terribile angoscia sul futuro su quello che stava accadendo fuori insomma è stato un momento in cui diciamo questo fatto che i cinema fossero chiusi che non si sapesse se sarebbero ripartiti ho avuto come l'angoscia che potessimo perdere il cinema che fosse qualcosa di finito forse è stato questo insieme al fatto di ripercorrere in solitudine quindi questa bolla di intensità che si ha quando si è chiusi da soli in casa questi ricordi a spingermi poi a scriverlo ti passo, io quando guardo i film mi segno delle frasi leggevo le tonate regia, pensavo al tempo che ci vuole per salvarsi e poi mi sono accorta che avevo scritto non ti lascio più e mi aveva colpito molto il fatto che come nei migliori film poi il tanto personale diventa poi tanto universale perché un padre e una figlia siete tu e tuo padre ma sono un padre e una figlia in tutta la sua essenza in tutte le sue sfumature beh grazie naturalmente questo è il complimento più bello è la cosa che ho sperato di fare ed è per questo che l'ho fatto perché non avrei mai fatto un film per raccontare solo delle cose personali mi sembrava che intanto che la relazione padre figlia che è così assolutamente fondante per ogni bambina per ogni donna che sia una buona relazione che sia sbagliata che sia interrotta è qualcosa che ci costruisce sia un tema che è pochissimo trattato al cinema e quindi mi è sembrato un tema importantissimo dal punto di vista femminile e poi ho pensato sempre e lavorato sempre anche con gli attori a rendere il più universale possibile questa storia esatto quindi grazie un altro aspetto affascinante invece che riguarda anche il cinema è le due visioni i due modi di fare cinema tuo e di tuo padre entrambe valide quindi in questo grande amore per quello che si fa due approcci diversi e mi è sembrata una bella riflessione sull'essere regista sull'amare il cinema su come il cinema fa parte della vita sì perché il film è naturalmente un omaggio è anche un gesto di gratitudine profonda nei confronti di mio padre non solo per tutto quello che mi ha insegnato ma anche per avermi salvato la vita quando sono stata in difficoltà e ci vogliono a volte anni per riuscire a dire un grazie però è anche un film controverso non è che è un rapporto idealizzato ci sono dei momenti di scontro anche delle differenze tra di loro e anche dei momenti di confronto e quindi c'è una libertà e c'è un modo di essere molto uniti e anche diversi cosa che è sana ed è normale forse è il segno principale che forse mio padre abbia fatto un buon lavoro perché ci ha lasciato essere chi volevamo noi ecco e a proposito di lavoro lui dice il nostro è un lavoro è che è un piccolo reminder molto importante su questo io sto lavorando molto anche nella mia attività che non c'entra niente col film insomma di presidente di cento autori il nostro è un lavoro che deve avere i diritti e la dignità di tutti i lavori incredibilmente il lavoro di autori e autrici è l'unico che non ha un contratto collettivo dei minimi salariali e noi stiamo lavorando per questo ed è importante ricordarlo il nostro è un'attività creativa a volte quando i pianeti del cinema si allineano a un'arte ma è innanzitutto e soprattutto un lavoro grazie a Francesca Comencini in bocca al lupo per il tempo che ci vuole che c'era anche al cinema il 26 settembre fuori concorso qui all'ottantunesima mostra d'arte e cinematografia di Venezia e sono Chiara Nicoletti e questo è Fred da Festival Insider grazie a tutti Grazie a tutti.